Orrore! Orrore! Ma veniamo all'ospite canoro di questa sera, richiestissimo da tutta Italia, e oltre arriva Adriano Celentano, questo personaggio così amato dalle folle di tutta Italia, questo personaggio, fate l'applauso Adriano e lei ancora attenti, ancora... Ciao ragazzi, sono venuto qui perché... sono venuto qui perché siccome prima stavolano e siccome sto qui... e come dice Tortora, salve, voglio dedicare la mia canzone alla coppia, come oggi nessuno crede più nella coppia, solo io ci credo nella coppia, non ci crede più nessuno nella coppia, quasi quasi nemmeno mia moglie. E' inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno, il mondo lo abbia chiuso fuori con il suo casino, una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi, un calcio alla tv, solo io, solo tu... Orrore! Orrore! E' da Adriano Celentano che ha naso per gli affari, passiamo agli affari di naso... Passiamo al nasuto conduttore del gioco dei mimi!